Con la più recente evoluzione legislativa, che si pone come obiettivi l'efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione, la comunicazione pubblica sta progressivamente andando verso un modello bidirezionale e partecipativo. La conseguente semplificazione di linguaggi e procedure porta a rendere chiare e comprensibili l'azione amministrativa e le organizzative, economiche e finanziarie operate, favorendo la creazione di un rapporto di fiducia con cittadini e imprese, a facilitare l'accesso ai servizi pubblici, soggetti a continuo monitoraggio attraverso il coinvolgimento dei cittadini. Questo processo evolutivo ha alla base un nuovo concetto di trasparenza, frutto di un percorso normativo di oltre 20 anni e sintetizzabile in tre distinte fasi. Il diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi, regolato dalla legge 241 del 90, riservato solo ai titolari di posizioni giuridiche qualificate. L'accessibilità totale, disciplinata dal Decreto 150 del 2009, a tutte le informazioni della pubblica amministrazione con esclusione di quelle dichiarate segrete dalla legge. Il dovere di pubblicazione o trasparenza legale, sancita dalla legge 190 del 2012 e dal successivo Decreto legislativo 33 del 2013, ovvero l'obbligo dell'amministrazione di mettere a disposizione di chiunque informazioni e dati relativi alla struttura organizzativa e alle principali attività gestionali. I nuovi obblighi di trasparenza previsti dal Decreto 33 rafforzeranno nel tempo anche il ruolo della comunicazione pubblica, come raccordo tra esigenze di efficienza gestionale e bisogni sociali di conoscenza. In INAIL la comunicazione pubblica e la trasparenza rappresentano da sempre un importante momento di efficacia operativa che caratterizza la vita dell'ente. Per rendere effettive le nuove misure, l'Istituto ha preferito orientarsi verso una trasparenza sostanziale, assicurando prima di tutto la pubblicazione dei dati utili al cittadino. La gestione del processo di pubblicazione è basata sull'utilizzo di moderne tecnologie informatiche e banche dati, con una costante azione di monitoraggio finalizzata a garantire accessibilità, tempestività e qualità delle informazioni. Il processo di pubblicazione ha tuttavia un'articolazione complessa che parte da diverse strutture centrali e territoriali. Pertanto, per contenere livelli di rischio e garantire rispetto degli obblighi di legge, l'INAIL ha avviato anche la definizione di un flusso operativo standardizzato. Tale flusso sta permettendo di gestire la quasi totalità delle informazioni pubblicate sul portale istituzionale e dei servizi erogati. Per dare alcuni numeri, nell'ultimo anno la pagina TINAIL ha ottenuto 149.430 visualizzazioni, la pagina amministrazione trasparente 80.618 e sono stati pubblicati oltre 350 atti degli organi di vertice e introdotti più di 2.000 aggiornamenti della sezione e amministrazione trasparente con una media di 5 pagine aggiornata al giorno. L'attuazione delle politiche della trasparenza normativa e la progressiva attivazione di flussi di pubblicazione standardizzati ha rappresentato per l'Istituto anche un'occasione per l'evoluzione delle strategie di contrasto all'illegalità e all'anticorruzione. Sul piano concreto, l'integrazione di questi due aspetti si sta traducendo nella realizzazione di un ambiente informatico improntato alla cultura della trasparenza e della sicurezza dell'azione amministrativa. Arco è il sistema realizzato dall'Inail per la gestione dei rischi di corruzione operativi e di compliance cui è esposto l'Istituto. Rappresenta una piattaforma avanzata dal punto di vista metodologico e tecnologico che rende il sistema della trasparenza uno strumento di miglioramento ed evoluzione organizzativa. Il progetto si sviluppa su quattro macrocantieri. La gestione dei rischi di corruzione, ex legge 190 2012, e dei rischi operativi. La gestione dei rischi di compliance, la gestione dei processi di pubblicazione legati alla trasparenza e infine il supporto all'audito operativo. Il processo di identificazione dei rischi è stato realizzato attraverso un sistema di analisi e monitoraggio delle attività dell'Istituto, secondo modalità cooperative che hanno coinvolto tutte le strutture interessate. Le analisi, condotte mediante il supporto del sistema informatico, sono costantemente aggiornate e confrontate con una legal inventory contenente tutte le disposizioni rilevanti ai fini di compliance. I rischi, così individuati, sono poi sottoposti ad una procedura di valutazione, denominata risk assessment. Per assicurare la massima omogeneità nei giudizi e rendere i risultati comparabili, la validazione avviene in modalità workshop, in cui tutti i responsabili dei processi sono chiamati ad esprimere una valutazione sui rischi a cui sono esposti. I risultati di tali valutazioni vanno ad alimentare un sistema integrato che, attraverso funzioni avanzate di reportistica, comprende in un unico ambiente tutte le informazioni necessarie all'istituto per monitorare e gestire i rischi. Passiamo ai primi risultati ottenuti, che hanno visto anche il coinvolgimento delle strutture. 12 direzioni centrali coinvolte, oltre 80 riunioni di condivisione, di cui 50 già realizzate per il 2014. Definizione del catalogo dei processi per 7 direzioni. Per le 4 aree di sviluppo del 2014, ovvero acquisti, patrimonio, prevenzione e risorse umane, sono oltre 70 le fasi di processo descritte, che corrispondono a oltre 150 flussi di attività. 122 rischi operativi e di frode individuati. Circa 800 le aree di rischio attualmente in fase di analisi. Il progetto sarà ulteriormente sviluppato nel prossimo biennio, attraverso la copertura integrale delle attività in gestione e un monitoraggio costante delle attività operative. La produzione di informazioni, anche a vantaggio delle funzioni strategiche dell'istituto, e il recepimento e l'implementazione più rapida dei vincoli normativi. Infine, la diffusione di un approccio metodologico sempre più improntato alla cultura della legalità. Lo sviluppo di ARCO porterà vantaggi anche per cittadini ed utenti. Tra i principali citiamo il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi con progressiva riduzione degli errori operativi, l'aumento del livello di trasparenza generale, la possibilità di una prima misurazione del valore delle attività e dei servizi erogati. La trasparenza diventerà per INAIL la principale leva per migliorare i flussi di comunicazione e favorire nuove forme di partecipazione e collaborazione con i cittadini. In che modo potrà avvenire questo ambizioso cambiamento? Nuovi progetti integreranno i due già avviati per la gestione dei rischi e delle performance, portando alla creazione di nuovi spazi di confronto e dialogo tra cittadino e istituto. L'evoluzione e l'integrazione delle iniziative in cantiere condurrà alla creazione di un sistema centralizzato e integrato di governance, a vantaggio dell'efficacia dei servizi e della trasparenza.